Bella raga e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite. All'interno di questo locale è situata la stella segreta dopo aver completato le sfide della settimana 3. Ci troviamo a sud di Corso Commercio, a nord di Palmetto Paradisiaco e alla sinistra del campo Dakart. Proprio in questo punto qua. Noi entriamo nel locale e la stella segreta della settimana 3 dovrebbe essere esattamente in questo punto. Beh ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video, un bel pollicino in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!